Ciao, benvenuti al mio negozio, sono Paolo Brada e questo è il mio canale. Prima di guardare il video, se vuoi, puoi inscrivervi al mio canale, è gratuito, non ti preoccupare. Grazie a tutti. 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 Ok. Bye guys, that's all for this video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. for don't miss the video, don't miss the video.